Accetrarò la maggioranza del sindaco Giuseppe Aieta transita dal patto democratico per la città al nuovo progetto per la città con l'obiettivo di ricercare il nome nuovo che rimpiazzerà l'attuale primo cittadino, oggi consigliere regionale. Le singole forze partitiche e la stessa coalizione hanno messo in moto la macchina organizzativa di avvicinamento al giorno delle elezioni. Donne, giovani, movimenti civici, tutti da coinvolgere come spiegano dal gruppo amministrativo sul nuovo progetto da portare avanti per Cetraro. Il nome del candidato sindaco uscirà dalla stessa amministrazione, anche se sembra una corsa a due, c'è Ennamo, il vice sindaco forte dell'appoggio del suo partito, il PD, e dall'altro lato l'assessore all'urbanistica Angelo Aita, espressione dei movimenti civici della coalizione. Da vagliare infine anche altre posizioni, come quelle degli ex dissidenti e di chi ha mostrato mal di pancia in questi anni di amministrazione a Aita. Fronte opposizione, c'è Vito Caldiero, capolista nel 2010 con alternativa per Cetraro. Oggi espressione del nuovo centrodestra, il consigliere di minoranza cerca di aprire un discorso legato alla coerenza partitica, amalgamando il centrodestra in una sola coalizione. Sono pronto, ha detto Caldiero, anche a mettermi da parte con il classico candidato di superamento, ma il mio punto di partenza è che ci si dichiari politicamente, il movimento c'è e pronto a partire. Anche Tommaso Cesario, dai banchi di minoranza, ha parlato di una fase di riflessione che prima o poi dovrà portare a qualcosa che non siano solo concetture e supposizioni. Grazie a tutti.